Presidente, naturalmente non sono soddisfatto, ma principalmente perché questo è un incidente, così come ha ribadito il Sottosegretario, di ottobre. È un incidente di ottobre 2014. È un incidente che non è vero che non ha... Io sento... In occasione dell'evento la Prefettura non ha attivato il piano regolarmente redatto. Noi abbiamo, caro Sottosegretario, non abbiamo perso tempo, a differenza, purtroppo, devo ammetterlo del Governo, perché sei mesi per un incidente del genere con la popolazione che vive a 50 metri dall'impianto, 50 metri con bambini anche di un anno, io vorrei vedere se al Sottosegretario, dopo un incidente avvenuto a luna di notte, riceve un'informazione solo ed esclusivamente su Internet, quindi chi non a Internet a Milazzo può anche morire, riceve l'informazione su Internet di stare a casa con una nube di fumo tossica enorme che copre, perché questo è accaduto, copre l'intero condominio. E la comunicazione è stata quella di rimanere a casa. Noi abbiamo chiesto, non abbiamo perso tempo, anche con la collega Mannino, con la collega Grillo, Duva, con Zafarana, la nostra collega giù in regione siciliana, abbiamo fatto numerosi accessi agli atti, 12 accessi agli atti. La Prefettura ci rispondeva che, a riguardo con specifico riferimento alla consultazione della popolazione, si osserva che la Prefettura nel 2008 ha provveduto a una preventiva consultazione attraverso dei consigli comunali aperti. Chi c'era nel consiglio comunale aperto? Si fa la comunicazione alla popolazione a casa del Comune, non in giro, non in strada, non nei luoghi sensibili. Si fa un consiglio comunale, si dice che è aperto, allora ci si pulisce la coscienza e abbiamo informato la popolazione. Non è questo il modo, secondo noi, di operare. Inoltre, ci sono dei problemi sul piano di emergenza esterno. Sono dei problemi che nell'accesso agli atti della Prefettura vengono riscontrati. Non c'è stato un aggiornamento secondo le prescrizioni di legge. Quindi, anche su questo vi chiedo di mettervi d'accordo. Io ero lì, io sono passato, caro sottosegretario, il giorno prima. Alle sei di sera, Presidente, tornavo da Catania con la macchina e vicino l'autostrada, sono circa 5-6 chilometri, ho iniziato a sentire una puzza incredibile. Noi, purtroppo, siamo abituati a sentire quella puzza in quel territorio, perché abbiamo una raffineria, abbiamo un'acciaieria, abbiamo un'ex fabbrica di amianto, Presidente scioccante, 220 ex dipendenti, 180 morti prematuramente, 180. E quella fabbrica va ancora bonificata. Abbiamo un'impianta idrogeno che, se scoppiava, sarebbe arrivato a 20 chilometri di distanza dall'impianto. E c'è uno studio, c'è uno studio, Sentieri, credo che lo conosciate, almeno lei sottosegretario, che parla dell'incidenza, parla dell'incidenza dei tumori e delle malattie proprio nei nostri territori. Guardi, fa veramente male. In entrambi i generi i ricoveri per tutte le cause non si discostano dall'atteso. Nelle donne si osserva un eccesso di ricoveri per tutti i tumori maligni, mentre sono in difetto i ricoveri per le malattie del sistema circolatorio. In entrambi i generi si osserva un difetto nei ricoveri per le malattie dell'apparato digerente. Negli uomini i ricoveri per l'apparato urinario si discostano dall'atteso. Nelle donne si osservano eccesso nei ricoveri per tumori maligni della mammella e dell'utero. Negli uomini è presente un difetto dei ricoveri per tumori maligni della prostata e un eccesso di tumori maligni alla tiroide. Le malattie cerebrovascolari sono in eccesso in entrambi i generi. In entrambi i generi le malattie respiratorie acute sono in difetto. Le crone costruttive e l'asma in eccesso. Guarda caso, proprio malattie respiratorie. Negli uomini è presente un eccesso di ricoveri dovuto a pneumoconiosi. La malattia epatica cronica e la cirosi sono in difetto in entrambi i generi. Nefrite, sindrome nefrosi che nefrosi sono in eccesso negli uomini. E lo sa cosa vogliono costruire, Presidente, a posto di una centrale elettrica? Un inceneritore. Proprio lì. C'è una via, vorrei ricordarla, si chiama via Passovela e la chiamano via delle parrucche. Una volta l'ho già raccontata in aula. Perché passa un elettrodotto e hanno deciso di farne un altro aereo, anche se ormai si fanno solo interrati, un altro aereo nello stesso territorio e questa via la chiamano la via delle parrucche perché in ogni casa, in ogni casa c'è almeno una persona che porta la parrucche. Ma non per piacere, perché è malata, di leucemia. Cioè non le sembra impressionante vivere in un Paese che con tranquillità nomina una via del proprio territorio, via delle parrucche, perché è piena di malati e nessuno fa niente. La prima comunicazione, come dicevo, è arrivata alle due di notte e non c'è stata, vi posso assicurare perché io ho vissuto quella vicenda, sono andato il giorno dopo col prefetto, con i vigili del fuoco. Non è stata informata la popolazione. Non c'era una macchina dei vigili del fuoco, in giro nel territorio per informare. I cittadini erano, non capivano. Cosa facciamo? Stiamo a casa? Usciamo? C'è un punto... Capisco che ci vogliono i soldi per gestire un'emergenza, per far stare a casa, in alberghi, in altri luoghi i cittadini, ma se la salute non la mettiamo al primo posto, che Paese civile è? Inoltre, questa è una cosa scioccante e le chiedo, sottosegretario, di informarsi. Avviene l'incidente, questa nube di fumo per tre giorni enorme, 600 mila litri di virgin nafta, per tre giorni continua a girare nei cieli del nostro territorio. Io mi interesso, l'ARPA mette due colonnine mobili, Presidente, due colonnine mobili per monitorare l'evento. Questa è la raffineria, il fumo andava di là, le hanno messe qua. Qua c'è la città, il fumo andava verso San Filippo del Mela, Santa l'uscita del Mela, verso le montagne e loro le hanno messe a mare, le due nuove colonnine mobili. Io ho telefonato e mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. A me sai cosa mi hanno risposto? No, ma normalmente il vento tira da quel lato, quindi le colonnine le abbiamo messe da quel lato. Lo sai qual è stata la seconda risposta? Le colonnine mobili hanno necessità di molta energia, ma che colonnine mobili sono se hanno bisogno di molta energia? e quindi dovevano stare vicino a un edificio comunale pubblico che potesse garantirgli la giusta energia. Che colonnine mobili sono? A cosa ci servono queste colonnine mobili? Se poi vengono messe in direzione opposta e necessitano di un'energia che non deve necessitare per una colonnina mobile. Tante erano le risposte, questa sulle colonnine mobile. cosa intendete fare? Cosa intendete fare per il territorio? Per informare realmente un nostro deputato, Corrao, ha già installato, un nostro ero parlamentare, ha già installato con soldi suoi delle colonnine, dei nasi elettronici, per verificare. Cioè non lo dobbiamo fare noi. Non lo dobbiamo fare noi. Sono passati sei mesi e lì non è successo niente. Non è cambiato niente. Mi ripeto, i controlli perché non ci sono stati? E concludo. Perché come ho iniziato il mio discorso dicendo che tornavo da Catania in autostrada a Milazzo e ho iniziato a sentire questo forte odore. C'era la mia ragazza a fianco e gli ho chiesto ma questo odore, questo odore così forte? Vabbè ma siamo abituati, lo sai. Però sinceramente così forte non l'avevo sentito. Allora dalle sei del pomeriggio a mezzanotte e cinquanta tutti sentivano quel forte odore strano e particolare perché il tetto di questo serbatoio era piegato e quindi uscivano i fumi. Uscivano i fumi all'esterno e nessuno della prefettura, di chi doveva occuparsi di queste cose, nessuno ha fatto una telefonata, sta succedendo qualcosa, c'è un problema. Chi aveva la responsabilità di controllare dove era? Dalle sei del pomeriggio a luna di notte i miasmi erano impressionanti. Lavoravano su questo tetto, sembra ci sia stata una scintilla perché cercavano di rialzarlo per un problema al galleggiante ed è scoppiato l'incendio. Quindi c'erano più di sei ore di tempo per poter verificare cosa stava accadendo alla raffineria. Quindi glielo dico, i controlli, parlo per Milazzo, ma credo che sia una cosa generalizzata in Italia, preventivi non esistono. L'informazione della popolazione non esiste. I tumori, l'incidenza in questi luoghi è in crescita ovunque. Non affrontate più, ve lo chiedo cortesemente, non da deputato ma da cittadino italiano, non affrontate più queste cose con questa leggerezza. Grazie.